Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Sono molti i temi sui quali si concentrerà il nostro dibattito di oggi. Molti perché anche le pagine dei giornali sono veramente ricche di notizie che riguardano l'attualità politica che si incrocia ai noi con quella giudiziaria perché la bufera, la caccia agli sprechi delle regioni continua, ce ne sono diverse nel mirino e rivelano uno spaccato veramente sconcertante e anche destabilizzante per il quadro politico. In questo quadro il governo si è assunto il compito di tagliare gli sprechi e anche questa decisione pure invocata, lo abbiamo detto anche nelle puntate precedenti di Omnibus, dagli stessi governatori delle regioni e dalla politica, anche questo ruolo del governo perfino su un tema che riguarda i costi della politica è anche questo molto significativo delle difficoltà dei partiti. Partiti che sono alle prese, lo sappiamo bene, il PD con le primarie e il PDL con il suo sbriciolamento ma proprio ieri e quindi in queste ore si torna a parlare anche di un partito che era un pochino sparito e cioè la Lega Nord che ha riunito gli stati generali e il primo tentativo della gestione del partito da parte di Maroni di, come dire, battere un colpo e ha invitato esponenti del mondo economico e anche del governo, c'era anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, che sono andati lì, hanno fatto dei discorsi importanti e da lì è arrivato anche l'allarma del presidente della Confindustria, Squinzi, che ha detto attenzione, le imprese non possono morire di fisco, meglio rinunciare agli incentivi per quelle decotte e invece portare, insomma, abbassare le tasse, giù le tasse. Una proposta che si incrociava con quella della Lega. Come vedete, molta carne al fuoco. Aggiungo un ultimissimo particolare prima di presentare gli ospiti che, in prima pagina su Correa della Sera, oggi c'è un'intervista a Luca Cordero di Montezemolo che dice che in qualche modo in campo c'è. Non facciamoci illusioni, non dice se si candida, non si candida, se sarà un partito, che cosa sarà, ma insomma dice che qualcosa farà nel nome, naturalmente, di Mario Monti. Allora, di tutta questa carne al fuoco parliamo con Mario Lavia, che è il vice direttore di Europa. Buongiorno. Con Pino Corrias, che è un giornalista e scrittore e autore di un libro insieme a Marco Travaglio e a Renato Pezzini che sono Marco Travaglio e Renato Pezzini, il cronista del Messaggero, che si intitola Bossi l'illusionista e che viene proprio a fagiolo oggi per parlare della Lega. Massimiliano Lenzi del Tempo, buongiorno, bentornato. Piero Sansonetti, giornalista. E poi avremo tra poco in collegamento da Milano Matteo Salvini, eurodeputato della Lega per l'appunto e avremo anche Alessandro Amadori, che è sondaggista e esperto direttore del centro Coasis Research. Allora, io comincerei, in attesa appunto che arrivino e si stabiliscano i collegamenti anche con Milano, comincerei da questo quadro, come dire, diciamo dalla notizia di Montezemolo, che è un minimo di novità, aggiunge un minimo di novità a Mario Lavia, a quello che si sta muovendo sul fronte del montismo. Dunque, la cosa di Montezemolo, io ho visto velocemente Repubblica e Il Corriere della Sera, sono già due interpretazioni diverse, che insomma, uno che annuncia una cosa, che si presta a due interpretazioni diverse, non è proprio una cosa eccezionale dal punto di vista comunicativo. Comunque, mi pare di capire che lui, Montezemolo, si mette, diciamo, in quell'alveo di sostegno all'ipotesi di un nuovo governo Monti, non ho capito in come si sostanzi questo sostegno, se con una lista o attraverso altre forme, mi pare di capire che non si candi lui direttamente, lui Montezemolo direttamente, c'è un'area nel corpo politico, nel padronato politico, che spinge nella direzione di un favore, all'ipotesi di un Montibis, che è una cosa che c'è nell'area, sicuramente nell'area centrale, cioè Casini, appunto questa cosa di Montezemolo, serpeggia anche all'interno dei due partiti più grandi, una parte minoritaria del PD e una parte minoritaria del PDL, c'è un lavorio, soprattutto internazionale, dei circoli economici forti, c'è un interesse, presumo, del Quirinale a che queste... non è che ci deve essere per forza, ma considerare che ci può essere l'ipotesi di un Monti, bis, nel caso in cui, abbastanza verosimile, che dalle urne non esca un risultato chiaro, insomma questa è un'ipotesi che c'è, e che va rafforzandosi e che adesso è non più una cosa, come posso dire, ipotetica, psicologica, ma è un'ipotesi politica, è un'ipotesi politica concreta. E in questo quadro, questo trasversalismo, diciamo così, dei filomonti, perché stanno un po' dappertutto, può sfociare in qualcosa di... insomma, come posso dire, nella decisione di Monti... Ma questo dipende dal risultato elettorale, guarda, secondo me dipende solo... Che Monti si possa candidare resta escluso. Sì, io non credo ci sarà un partito di Monti, una lista di Monti, perché Monti non è uno che fa un partito, cioè immaginare Monti a capo di una cosa, con le federazioni, con la segreteria, con i pasticci, non ce lo vedo, d'altronde Monti ha uno standing un po' diverso, no, non è un capo partito, e lui può guidare legittimamente il governo proprio perché ha uno standing diverso. Dopodiché dipende dal popolo, cioè se il popolo dice che c'è un risultato non chiaro e comunque, allora esce un'ipotesi così, di unità nazionale o comunque un governo di emergenza che prosegue l'esperienza di questo anno. Se invece il popolo dovesse dire che vuole un governo di sinistra, fondato su alleanza fra Bersani e Vendola, allora si farà quel governo lì, se avrà i numeri, ipotesi che al momento mi sembra abbastanza difficile. Pino Corrias, è un po' affollato questo fronte dei Montiani, secondo te, un po' troppo? Ma sai, è la dimostrazione, intanto che, come dire, noi siamo commissariati da alcuni mesi, da quando il governo precedente ci ha trascinato, il governo Berlusconi, Lega per l'appunto, ci hanno trascinato nel disastro economico, morale e nel discredito internazionale. Siamo stati commissariati, dei poteri, diciamo, sovranazionali hanno indicato questa via d'uscita che si è identificata con il professor Monti. Ho l'impressione che i partiti, giusto perché è d'attualità, a cominciare dalla Lega, stiano cercando una collocazione e una identità, per cui questa frammentazione appunto trasversale che va da destra, passando per il centro e a sinistra, a favore di Monti, dimostra questo, dimostra che i partiti stanno perdendo collocazione e identità, e si devono misurare con una cosa molto più grande di loro che è l'Europa, sono i grandi poteri, le banche centrali che stanno, gli organismi finanziari internazionali che stanno governando questo paese. Massimiliano Lenzi, questa stranezza, la strana discesa in campo di Montezemolo che viene titolata dal Corriere come un passo avanti e da Repubblica come un passo indietro? Forse perché Repubblica sperava che non scendesse. Secondo me, diciamo, conoscendo il personaggio Montezemolo e anche la sua moderazione degli interventi, questa intervista ha almeno tre notizie. La prima è che lui dice che bisogna costruire un contenitore liberale e riformista per l'agenda Monti. Quindi da prescontato che un'operazione del PDL che appoggiasse Monti non gli va bene, ma dirò di più, lui dice che un UDC 2.0 non servirebbe. E questo è un messaggio chiaro a Casini. Dice che nel 2012 non si può essere Montiani a Roma e poi in Sicilia tessere le solite alleanze per governare il potere locale. Questo è il primo punto. Giudica in maniera abbastanza positiva, secondo punto, la questione di Renzi. E poi mi sembra chiaro che, riprendendo anche le parole del Presidente di Confindustria, Squinzi, dà un'indicazione per quella che potrebbe essere la svolta della nuova agenda Monti, da qui in avanti, che dovrebbe partire, uno, da una riduzione della pressione fiscale sulle imprese e, due, da una cosa a cui il Governo sta già lavorando, che è il taglio ai privilegi della politica. Sembra che il decreto legge la prossima settimana sarà pronto. Oggi c'è un'intervista del Ministro Riccardi che dice che se non si taglia immediatamente lo sperpero, nessuno vuol ridurre a mille euro al mese i consiglieri regionali, però non si taglia lo sperpero l'antipolitica di Laga. Per cui, secondo me, è una novità questa intervista. Io sono più d'accordo col titolo del Corriere che viene pubblicato. Cioè che lui semplicemente dice che non sarò io a candidarmi a fare il Premier, però sarà in politica. Bisogna aggregare... Ci sarà Montezemolo in Parlamento, secondo te, da questa intervista? Secondo me, forse no, però lui dice chiaramente che un partito che rappresenti i liberali, i moderati e i riformisti che si riconoscono nell'agenda Monti non c'è. Perché lui dice che bisogna costruirlo... Non sembra che ce ne siano troppi, in realtà, Sanzonetti. Però lì oggi Ferrara cosa dice su un altro giornale, che è Il Giornale? Dice attenzione Monti a non farti tirare per la giacca da quelli che sono Monti ora che le cose vanno bene. E lì lui si riferisce chiaramente al sostegno dei partiti tradizionali. L'ultimo che è arrivato è stato Fini, proprio qui. A otto e mezzo. A otto e mezzo, alla sette, dalla Gruber venerdì. Quindi, secondo me, è una novità importante, le parole di Montezemolo di oggi. Sanzonetti. Beh sì, sono un po' preoccupato io, perché noi siamo entrati ormai in un clima, in un dibattito politico in cui tutto è virtuale. Io non è che ho capito benissimo chi è questo Montezemolo. Il capo della Ferrari, credo. Il capo di una... È un imprenditore. Il presidente di una cassa automobilistica. In uscita, però. Non so, in uscita. In uscita. Ma voglio dire, noi vabbè, ci abbiamo... Corriens un po' ha raccontato la cosa. Ci abbiamo un paese commissariato. Abbiamo un premier che non è quello che è stato eletto alle ultime elezioni e non si sa bene con quale legittimazione. Non sappiamo bene quando andremo a votare e con quali partiti. Il dibattito avviene attraverso l'accesso in campo di uno che non scende neanche in campo. Perché se quello mi annunciasse, vabbè, mi chiamo Cordero di Montezemolo, voglio fare il premier, mi presenterò alle elezioni, uno dice, vabbè, ce n'è un altro che può fare il premier. Invece no, c'è un signore che dice che non scende in campo, che non si candida, che non si presenta nelle elezioni e decide come... Dice che vuole aiutarmi un altro di signore. Il dibattito, però, è tutto fra i partiti dove sono finiti. Cioè i partiti in democrazia, generalmente, al di là dell'antipolitica, della politica, sono dei gruppi che si presentano nelle elezioni, le vincono, le perdono, le pareggiano, dopo si vede. E prima, la Ria diceva, deciderà poi il popolo. Questa scusa mi è, ma credo che sia l'unica cosa da escludere, perché mi sembra molto improbabile che deciderà il popolo. C'è un'ipotesi di governo Monti, su cui, ecco, la discussione avviene su se Cordero di Montezemolo l'appoggerà un no, in che modo l'appoggerà... E... Beh, se il PD prendesse il 50% alle elezioni... Ecco, guarda, in teoria, perché noi poi discutiamo addirittura, ormai discutiamo persino con una legge elettorale virtuale, perché con l'attuale legge elettorale qualcuno vince le elezioni. Ma se la politica non la fa... No, no, con l'attuale legge... Ecco, però, se la politica non la cambia... Se la politica non la cambia, qualcuno la vince le elezioni. Noi già discutiamo su se il risultato elettorale sarà chiaro, mentre attualmente il risultato elettorale non può che essere chiaro, no? Con questa legge elettorale qualcuno deve prendere il 54% dei 55% che si è in Parlamento. Alla Camera. Sì, alla Camera. Ma invece noi già discutiamo di una legge, di una ipotesi che nessuno sa che cos'è, quindi che andremo a delle elezioni che non sappiamo cosa sono. Come avverranno, chi ci sarà, i partiti non esistono più, in più c'è la questione della regione Ghete, eccetera, eccetera. Guardate che è davvero... L'Italia non ha mai vissuto in un vuoto di democrazia come questo. Tutto ciò che è escluso dal dibattito politico è il meccanismo democratico. Il meccanismo democratico tradizionale è stato totalmente cancellato. Scusate, ma dico solo questa cosa qui. Tanti meriti avrà Monti, non lo so, a me non risultano grandi meriti. Sicuramente c'è questo demerito, e che non è un demerito da niente. E cancellare la democrazia in un paese non è un demerito da niente. Però, scusate, se Monti sta lì, è proprio per l'incapacità e l'impotenza della politica. Per il fallimento. Lo hanno invocato. Adesso, allora, eravamo su questo punto, lo dicevo nell'apertura, perfino sui costi della politica deve intervenire il governo per decreto. Per decreto. Perché non sono... Mentre nelle regioni succede di tutto. Con i politici. Sì, ma invocato dalle forze politiche. Io vorrei sentire a questo punto, Matteo Salvini, prima di arrivare proprio allo specifico della Lega, vorrei chiedere anche a Matteo Salvini che cosa pensa di Montezemolo. Sorride. Vuole la verità. Sì, certo. Alle 8 e 5 della mattina, mi metto nei panni di chi ha acceso la televisione e sta facendo colazione, chi se ne frega. Cioè, onestamente, a Matteo Salvini, alla Lega Nord, e penso alla stragrande maggioranza della gente normale, Montezemolo lo associa alle Ferrari e quindi speriamo che Alonso vinca il campionato, però per il resto è un dibattito politico che mi appassiona zero, con contenuti zero, con proposte zero, con idee per uscire dalla crisi zero. Beh, le idee per uscire dalla crisi sono le stesse di Monti, questo, no? Ecco, appunto. Allora, se devo scegliere la brutta copia, io contesto la bella copia, che è Monti, che, cito, ci ha portato fuori dal disastro economico e morale e da qualche settimana che dice che vede la luce fuori dal tunnel, la vede solo lui, buon per lui, perché la stragrande maggioranza della gente è ancora assolutamente in mezzo al tunnel, e come Lega, più che di Montezemolo o del Montibis, che, concordo con Sansonetti, è l'antitesi esatta e totale della democrazia, nel senso che ha come missione, dal nostro piccolissimo punto di vista, mettere in sicurezza le banche e le assicurazioni, provare a far comprare da qualche potenza gli ultimi pezzi di grande impresa nazionale rimasta da Enia e Enel a Finmeccanica, e quindi è l'ultima delle soluzioni per uscire dal tunnel, dal mio punto di vista, e i dati economici, tutti i dati economici in qualunque paese normale, se Monti, che è più serio di Berlusconi, che all'estero ha un'immagine migliore, che non fa le corna quando si fanno le foto di gruppo, che dialoga con la Merkel, con Obama, qualunque paese normale, con una classe giornalistica diversa dalla nostra, numeri alla mano, prende Monti è arrivato a novembre, Monti è arrivato a novembre, siamo a ottobre, com'era la situazione prima, com'è la situazione oggi, debito pubblico, stiamo peggio, produzione industriale, stiamo peggio, disoccupazione, stiamo peggio, questo non per dire che prima eravamo in paradiso, e adesso per colpa di Monti siamo all'inferno, per ogni motivo solo un cretino potrebbe dire qualcosa di simile, prima stavamo male, adesso secondo tutti i numeri stiamo un pochino peggio, lo ha spiegato lo stesso Monti per quale ragione, ma Monti ormai con la situazione giornalistica che c'è in Italia, ci può portare un pezzetto di cacca su un piattino da caffè, e dirci che è un bignè al cioccolato, però Salvini non vuol dire che la classe giornalistica fa schifo, fa schifo la classe politica in Italia, Salvini fa schifo la classe politica in Italia, non la classe giornalistica, io non ho interrotto, se vuole mangiare il pezzettino di cacca al posto del bignè al cioccolato, lo faccia pure, io sono un giurmino, sono un giurmino, io sono un giurmino, io sono un giurmino, sto chiudendo, dicendo il fatto che a me di Montezemolo, come al taxista che mi frega, men che zero, vorrei se possibile parlare di alcuni progetti, perché proviamo a guardare avanti come Lega, che buttiamo sul tavolo, e se magari Montezemolo diceva bene, ieri Passera, Passera che è un ministro che contesto, però è arrivato agli stati generali della Lega a Torino a dire, ci vuole il federalismo, in Italia serve federalismo, perché altrimenti se non c'è responsabilità, poi uno spende e spande con vuole, quindi commissariamo le regioni che hanno sbagliato. Salbini, però è un momento soltanto, perché vorrei sentire anche a Madori su Montezemolo, torniamo sul federalismo, perché mi pare che il federalismo sia il modello di federalismo reale, che stiamo vedendo come si è realizzato finora, mi pare che non stiamo dando dei buoni frutti. No, non siamo in un paese federale, mi scusi, non vendiamo Bignè quando non sono Bignè, l'Italia non è un paese federale, l'Italia non è un paese federale. Quello però, posso dire un'Europa? Sì, però io siccome questo mi sembra un punto centrale, è anche un argomento forte nei confronti, per quanto riguarda la Lega, uno può dire tante cose, però può dire anche come si è realizzato per ora la pulsione al decentramento. Sentiamo un momento, se non vuole chiamarlo federalismo, se le piace. La pulsione a un mini decentramento, va bene così. Però volevo sentire a Madori su Montezemolo. Montezemolo è stato studiato alcuni anni fa dagli istituti di ricerca, perché l'ipotesi di una sua discesa in campo di qualche tipo circola da diversi anni. Diciamo che tre, quattro, cinque anni fa, in piena era berlusconiana, Montezemolo poteva rappresentare un tipo di offerta attrattiva per il mercato elettorale italiano, proprio in funzione, se vogliamo, contro berlusconiana o alter berlusconiana. Poteva essere una sorta di cavaliere bianco, per così dire, da contrapporre al cavaliere azzurro, o blu o nero, a seconda dei punti di vista. L'ipotesi, però, di una sua effettiva capacità attrattiva è andata tramontando, anche per l'effetto annuncio mai dato, se vogliamo. È una proposta superata dal punto di vista demoscopico e, in un certo senso, ha ragione Salvini. Lo ha espresso in modo un po' duro, diciamo, ma effettivamente oggi Montezemolo non rappresenta più una novità dal punto di vista demoscopico. non ha un potenziale elettorale a oggi significativo e ha un livello di fiducia che non è significativamente superiore a quello dell'establishment italiano, non solo politico, che tende a essere molto basso. Quindi, per riassumere, un prodotto prossimo alla data di scadenza, potremmo dire, in chiave di marketing politico-elettorale, c'è stato un momento in cui invece poteva, diciamo, quattro anni fa, in cui poteva rappresentare davvero il catalizzatore di una forte iniziativa politica di tipo pragmatico-centrista, se vogliamo. Quindi, niente di nuovo sotto il sole, è vero, hanno ragione sia Sansonetti, sia Salvini, dal punto di vista, ripeto, delle opinioni dei cittadini. Manca un'idea politica vera, forte, si continua a ragionare intorno a ipotesi di tipo tecnocratico, mentre la politica sembra aver cessato di svolgere le sue funzioni vitali e, dall'altro lato, si fanno nomi che sono nomi vecchi. Non è il nuovo, non è in nessun senso il nuovo. L'Italia non riesce a esprimere novità né attraverso la classe politica né attraverso la classe imprenditoriale. Ragioniamo di nomi che circolano a 5, 6, 7 anni. Siamo l'unico paese. Nemmeno la Grecia ha una così bassa capacità di innovazione. Se la novità è Montezemolo, possiamo concludere che l'Italia è totalmente incapace di esprimere dei concetti nuovi. Professore, volevo farle un'altra domanda. Però, ci sono vari interlocutori, vari possibili competitori sulla scena politica e tra questi c'è Montezemolo che stanno scegliendo la bandiera di Monti anche perché Montezemolo, probabilmente sapendo quello che lei dice dei sondaggi, delle rilevazioni demoscopiche, in modo accorto non scende in campo lui personalmente per la leadership. Però, che spendibilità ha in termini demoscopici invece tutto questo, l'agenda Monti? È tale da giustificare questa corsa dei politici anche a dire, allora io sto con Monti? Allora, il punto chiave in termini di marketing elettorale è che c'è potenziale attorno a questa ipotesi diciamo di governo dei migliori, vogliamo chiamarla così, una sorta di governo platonico, gli intellettuali, i migliori, i superiori, fra virgolette, che prendono in mano il potere e cercano di costruire la forma ideale di Stato, non so se chiamarla più Repubblica, Stato ideale, c'è del consenso potenziale. Però, ripeto, dovrebbe diventare una offerta politica esplicita, cioè ha ragione Sansonetti, finché rimane un concetto virtuale è impossibile che si aggreghi del consenso intorno a qualcosa che non c'è. Nel momento in cui Monti, o chi per lui, o Montezemolo, dicesse, esattamente come ha detto, con molta chiarezza, facendo un ragionamento proprio di marketing, al di là di tutto, nel momento in cui qualcuno dicesse nasce la lista Salviamo l'Italia, LSI, oppure Salviamo l'Italia, E6, nasce la lista E6, qualcuno la fonda, Montezemolo, qualche altro imprenditore, qualche giornalista, qualche scrittore, qualche sondaggista, qualcuno la fonda, chiama a raccolta i migliori, i mille, la spedizione dei mille, una sorta di neo garibaldismo, diciamo di tipo tecnocratico, chiama nel momento in cui succedesse questo, nasce, qualcuno la fonda, le dà un nome, le dà un simbolo, le dà un'identità, le dà un programma, le dà un'ipotesi di progetto per il Paese, nel momento in cui succedesse questo, e quindi si finisse di ragionare di quello che non c'è e si cominciasse a ragionare su quello che c'è o ci sarà, allora sì, ci potrebbe essere un consenso anche forte per un'ipotesi di questo tipo. Ma non serve una faccia per tutto questo nella politica moderna? Certo che serve almeno una faccia, quindi qualcuno, e ha ragione, ripeto, sottolineo, hanno ragione, Sansonetti e Salvini, qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità, a questo punto, politica, di questa decisione, e con la propria faccia dovrebbe dare vita a un'iniziativa politica. Come fece, con tutti gli errori, con tutti i difetti, con tutti i problemi, come fece nel 92-93, Silvio Berlusconi, cioè lui fece al crollo della Prima Repubblica esattamente questa operazione. Al crollo della Seconda Repubblica, perché la Seconda Repubblica è crollata, è crollata forse peggio di come è crollata la Prima Repubblica, la Prima Repubblica produsse comunque delle forme di iniziativa politica, morendo, invece la Seconda Repubblica non sta producendo niente, è una dissoluzione entropica che non ha veramente uguali nel panorama europeo, e forse in un certo senso mondiale. Allora, nel momento in cui qualcuno, come avvenne nel 92-93-94 con Berlusconi, decidesse di dar vita a un progetto politico, allora con la sua faccia, con un nuovo simbolo, con una nuova lista, con delle nuove idee, allora si potrebbe aggregare intorno a questo progetto, anche di tipo tecnocratico, anche di tipo elitarista, un consenso forte. Vi do solamente un dato, non mio, di vari istituti. Allora, grosso modo, il 40% degli elettori, 40% degli elettori, sarebbe disposto a votare per un nuovo partito, sottolineo, nuovo partito, compreso, cioè, considerando non nuovo partito, persino il Movimento 5 Stelle. Sono 21 milioni, abbiamo fatto un convegno a Roma la settimana scorsa, tra ricercatori, e il dato su cui tutti concorriamo è che esistono 21 milioni, 21 milioni di elettori che potrebbero votare per un nuovo, sottolineo, nuovo, non sto parlando del Movimento 5 Stelle, per un nuovo partito. Quindi il consenso potenziale c'è. Però, se come dice Sanzonetti, rimaniamo nel virtuale, rimaniamo nell'ipotesi di appoggio di qualcosa che ancora non c'è e che viene stabilito prima delle elezioni stesse, è chiaro che questo consenso non può essere catalizzato. Certo. Allora, Mario Lavia, mi sembra che... No, no, non sono una cosa, questa cosa è elitaria, però appoggiata dal popolo, sono una cosa un po' complicata, perché secondo me la forza di Monti è proprio quella di essere un po' al di fuori dalle cose, proprio piacere o non piacere. però Monti capopartito è una cosa che non vedo. Non sembra praticabile. Ma allora ragione Sanzonetti è sostesa la democrazia, non c'è più una condizione di democrazia in questo paese. Abbiamo deciso di non essere più governati democraticamente. Ma che c'entra? Ma lui è appoggiato dalle forze politiche, non è che fa un colpo di Stato con i carri armati, viene sorretto in Parlamento alle forze politiche che condividono un programma di emergenza. Non vedo perché la democrazia non c'è più. Potrebbe però poi realizzarsi uno scenario diverso nel quale vince un partito. Ma io ho solo dubbi sul fatto che il tecnocrate poi è appoggiato dal popolo. È una cosa che proprio intanto non lo ha mai visto. Solo una cosa. Allora, ancora una volta, ha ragione Sanzonetti. Sanzonetti ha ragionissima. Per gli istituti, c'è un istituto. Sanzonetti deve aprire un istituto di ricerca. assolutamente. È più facile fare Sanzonetti. È più facile fare Sanzonetti. nettamente, staccando i dieci punti, diciamo, la concorrenza, intesa come ipotetico asse di centrodestra, ammesso che esista ancora un asse di centrodestra, vincerebbe il centrosinistra. Quindi anche questo è un punto che in termini demoscopici non ha senso. Cioè, l'unico problema è la ritrosia del centrosinistra a decidere di fare un'alleanza a quattro che sul territorio ha dimostrato di funzionare perfettamente. Quindi domani mattina emergerebbe una maggioranza chiarissima e il Senato non è un problema. Cioè, noi abbiamo esagerato la differenza fra Senato e Camera. È stato un problema abbastanza forte nel 2006, ma per il resto non è vero che esiste questa completa differenza, questa assoluta differenza fra Senato e Camera. Anche nel 2008 c'è sempre questo problema. Ma oggi non sarebbe più così. Siamo pronti a scommettere dal punto di vista, ripeto, demoscopico che oggi non ci sarebbe nessuna schizofrenia fra Senato e Camera. Nessuna. Quindi l'unico problema se vogliamo riportare cose sul piano della realtà è che il centrosinistra non decide un'alleanza diciamo di tipo Zapatero in Spagna. L'Italia oggi sarebbe pronta per un'ipotesi di tipo Zapatero. Cioè, un governo di centrosinistra e sinistra che se si andasse domani mattina a voto È un po' la linea di Bersani. Avrebbe una maggioranza schiacciante nel Paese. È la linea Bersani Ma c'è la reazione amministrativa. Sì, però poi ci spiega come... Questa è la linea di Bersani però i sondaggi poi danno anche in vantaggio a Renzi in alcuni momenti. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità poi Renzi poi dire quello che vuoi a tra poco. Bentornati a Omnibus sono le 8.24 Allora, c'era Pino Corrias e anche Massimiliano Lenzi che non vogliono lasciar cadere quello che ha detto Salvini sul governo Monti Ma io sono stupefatto prendo atto del fatto che Matteo Salvini e la Lega dopo più o meno vent'anni che stanno al governo sono stati al governo hanno collaborato con Silvio Berlusconi si è accorto che Berlusconi fa le corna e che ci ha portato al disastro in cui ci ha portato e che lui lamentava del fatto che le persone normali il Paese Reale sta dentro il tunnel dico che il loro ultimo contributo è stato quello di infilare Belsito nel Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica visto che parlava del fatto che i poteri internazionali si apprestano a comprare i nostri gioielli industriali e che quello è stato l'ultimo contributo della Lega con quell'altra cosa straordinaria del trasferimento e dell'apertura dei tre uffici a Monza dei tre ministeri perché poi le cose uno se le dimentica ma insomma fanno parte della storia non edificante di questo Paese Lenzi no io volevo dire due cose la prima ad Amadori che ci ha spiegato che la candidatura di Montezemolo è tutta virtuale eccetera e poi ha citato i sondaggi prima cosa c'è di più virtuale dei sondaggi per anni Montezemolo è l'unica cosa per anni Berlusconi è stato accusato di fare una politica di plastica per l'uso forte dei sondaggi lui cita la percentuale del 40% di italiani che è a fronte di un nuovo raggruppamento eccetera ma se guardiamo il consenso di Monti dei sondaggi che è tornato sopra il 50% e diamo retta al campione che i sondaggi rilevano significa che la maggioranza degli italiani è per Monti allora non usiamo il virtuale da una parte per combattere un altro presunto virtuale Montezemolo ha fatto un passo avanti può piacere o non piacere ha detto secondo me in maniera sua alla Montezemolo che non fa un partito suo con il suo nome ma che si metterebbe volentieri a costruire un contenitore per dare una casa a milioni di italiani liberali e riformisti però è un po' evanescente Montezemolo è sempre stato evanescente non è un decisionista rientra però è una novità però rischia la reazione di Salvini diciamo la reazione di Salvini ha un grosso limite secondo me la prima quando ci spiega che noi siamo una categoria disastrata noi giornalisti è una difesa corporativa sì è una difesa corporativa siamo una categoria disastrata forse ma la politica di cui Salvini fa parte sta peggio di noi Salvini lamenta che il federalismo in Italia non c'è in dieci anni dal 2001 al 2011 sono stati otto al governo se il federalismo non c'è colpa loro avevano anche un ministro che doveva fare le riforme se il federalismo non c'è colpa loro se c'è una via di mezzo che non è un federalismo ed è come lo chiamava lei decentramento è comunque colpa loro perché stavano al governo allora i giornalisti saranno delle merde come dice Salvini e io non lo penso io inviterei a moderare e io non lo penso però penso che veramente la classe politica italiana dovrebbe guardarsi un po' allo specchio perché criticare l'agenda Monti è facile ma bisogna anche ricostruire perché è arrivato Monti senza per questo diciamo essere montiani Monti è arrivato perché c'era un'incapacità di una classe politica di gestire un'emergenza economica mi dice ora Amadori dice in Italia voglio rassemblamare la Zapatero ma Zapatero è fuori tempo massimo in Europa Zapatero è fuori tempo massimo il secondo mandato di Zapatero è stato un disastro in Spagna un disastro si occupava dei matrimoni dei gay mentre il paese andava a rotoli si sono svegliati ora la Catalogna è piena di debiti sta assaltando tutto il sistema autonomista e noi che facciamo prendiamo Zapatero per cacciare l'agenda Monti ma è una roba da autolesionisti o no? chiedo o no? sì allora mi sembra che ci sono due filoni ha detto che gli italiani vogliono Zapatero io non lo penso lui ha detto alla Zapatero lui non ha detto questo non ha detto questo ha detto ho detto che l'Italia sarebbe tecnicamente pronta per un governo centrosinistra e partino sinistra il che non è un sondaggio il che non è un sondaggio ma sono i risultati delle elezioni amministrative in cui c'è stato un'onda rosa nel paese così come anni prima c'era stata un'onda blu quindi non sto parlando di sondaggi sto parlando di voti veri voti pesanti i voti una tornata amministrativa l'ultima della primavera in cui c'è stato un formidabile rafforzamento del centro-sinistra sul territorio esattamente come prima c'era stato un rafforzamento del centro-destra quindi i paesi oscillano ci sono fasi di centro-destra e fasi di centro-sinistra tutto qui no professor Amadori appunto è per spiegare il fraintendimento è nato lui ha usato naturalmente detto Zabbatero però diceva però lui ha citato Milano io penso che il sud sia diverso dal campione di Milano che ha citato lui e l'ho usato provocatoriamente io penso che la Sicilia la Calabria sia diverso il fatto che lui insista sul modello ci dimostra che giustamente essendo un sondaggista ragione in termini tra virgolette virtuali assolutamente Amadori è virtuale come Montezemolo questo voglio la musica però lui non si ganna per rincorrare l'Italia che è un grosso candidato perché è un grande un momento Sanzonetti ha ragione Lenzi un momento però facciamo finire Amadori e poi vorrei naturalmente sentire Salvini prego Amadori no molto semplicemente io non stavo al di là dei sondaggi ripeto c'è un preciso test svolto pochi mesi fa che dà tutte le indicazioni questi test diciamo macro macro locali cioè locali su larga scala sono degli ottimi predittori sempre dal punto di vista del voto reale sono degli ottimi predittori di come si stanno orientando gli italiani quindi la prova generale di una possibile alleanza di centrosinistra e tattino sinistra in grado di avere la maggioranza io non è che sono favorevole a queste intendiamoci non vorrei dare l'idea di essere uno sponsor di un modello assolutamente io dico solo che dal punto di vista dei fatti dal punto di vista dei fatti i voti reali non i sondaggi i voti reali indicano che il paese è pronto per questo non ci sarebbe nulla di sconvolgente non riesco veramente a capire da osservatore dove stia il problema cioè per quale ragione come avviene tra l'altro in molti altri paesi si sta diffondendo un'ondata di centrosinistra chiamiamolo così in molti paesi del mondo lo smantellamento del primo punto per cui la gente vive cioè il lavoro lo smantellamento del lavoro sta generando un'ondata di centrosinistra di atteggiamento di centrosinistra in molti paesi del mondo del mondo quindi è una tendenza mondiale e non si tratta di sondaggi si tratta di risultati reali è tutto qui cioè sono mali fattori che tendono a cambiare gli atteggiamenti cosa ci sia di strano di discutibile o di sconvolgente in questo non riesco a me piace sentire queste cose ma non è che si può nel mondo non sta succedendo proprio così se guardi la Spagna la Grecia appunto non mi pare che ci sia una formidabile espritta a sinistra in Spagna la gente scende in strada a livello quasi rivoluzionario non è un atteggiamento di destra però non è necessariamente non mi pare che in Germania il nuovo il candidato dell'SPD che ha una linea che è più a destra di quella della Merkel si appresti a vincere le elezioni non è dato così non mi sembra che siano proprio così le cose vediamo in Sicilia che succede l'attuale maggioranza sta subendo dei forti ridimensionamenti sul territorio quindi è l'atteggiamento complessivo che sta cambiando danno tutti la Merkel comunque vedremo a partire dalla Sicilia vedremo se la vittoria della Merkel comunque la possibile vittoria della Merkel smonterà un po' i sondaggi diciamo gli istituti di ricerca italiani ma anche noi voteremo secondo voi io per ora per 3-4 anni voteremo però io vorrei sentire Matteo Salvini no lì c'è la legge se facessimo un giro elettorale pure in Italia saremmo un grande divertimento voteremo voteremo la legislatura finisce voteremo sicuro si voterà Napolitano ha detto anche che non allungherà i tempi ha fatto capire quindi si voterà la legislatura finisce dunque Matteo Salvini io vorrei che lei rispondesse naturalmente alle sollecitazioni che sono venute dallo studio in termini insomma cerchiamo di andare un po' a fondo anche dentro un periodo della Lega che è stato che è difficile ieri c'è stata un'iniziativa importante come lei ha detto ci sono stati ospiti importanti che hanno detto cose importanti però la Lega non sta vivendo proprio il suo momento migliore cerchiamo di andare un po' a fondo altrimenti se siamo nella propaganda allora fa schifo insomma cerchiamo di andare un po' a fondo prego io guardo avanti e non sto a replicare ai giornalisti in studio assolutamente schierati con nessuna simpatia per la Lega quindi bel sito l'abbiamo buttato fuori abbiamo buttato fuori deputati senatori consiglieri regionali sindaci quando ci siamo accorti che c'era qualcuno che usava la Lega e il denaro pubblico li abbiamo buttati fuori e questo è accaduto qualche mese fa quindi preferisco guardare avanti perché avere come è accaduto ieri a Torino 150 imprenditori non leghisti non erano militanti della Lega perché quando viene Pininfarina quando viene la gente che si vede in queste immagini che si alza la mattina la sera tardi per fare impresa e chiede alla Lega come dargli una mano io sono contento perché vuol dire che la Lega è un interlocutore anche col nuovo corso con la pulizia che ha fatto quindi preferisco più che di Belsito che è stato un evidente errore più che di Ministeria Monza che è stato un altro evidente errore guardare avanti guardare a quello che accade in Europa dove è vero che c'è un avanzamento del centro-sinistra dove è vero che c'è una ricomposizione per dar risposta a livello territoriale a quello che gli stati non riescono a rispondere c'è un euro-regione danumbiana c'è un euro-regione balcanica noi pensiamo ci possa essere un euro-regione alpina che metta a collaborare Svizzera Austria Slovenia le regioni del nord sui temi loro io sono per un euro-regione europea invece per un euro-regione europea non riuscite ancora a introiettarla questa cosa chiunque si è accorto che l'Europa 27 non riesce a dare risposte utili e concrete che partono dalla Svezia passino per il Portogallo e arrivino all'Italia chiunque si è accorto che questo tipo di Europa non riesce a dare risposte perché il problema che danno a Helsinki non è il problema di Lisbona e non è il problema di Catanzaro quindi occorrono realtà un pochino più vicine più veloci meno burocratiche più snelle più omogenee quindi noi questo abbiamo ascoltato dagli imprenditori non solo dagli imprenditori perché questo vale per il modello di riforma scolastica e questo vorremmo provare a fare da soli probabilmente sì io sbirciavo i sondaggi del professor Amadori sulla Lega che sono positivi e quindi mi dicono che il trend è tornato in crescita sulle proposte concrete qui non voglio star qua a polemizzare su quello che poteva essere e non è stato federalismo federalismo significa che chi sbaglia paga e il federalismo fiscale avrebbe bisogno di una firma per entrare in vigore una firma di Mario Monti domani mattina visto che oggi è domenica trasforma l'Italia in un paese in cui il federalismo fiscale entra in vigore quindi gli amministratori che sbagliano pagano noi non si ricandidano più c'è l'impossibilità di ricandidarsi Salvini il punto invece quello che abbiamo visto finora è che con il rafforzamento delle autonomie delle regioni che pure è stata una cosa importante tra l'altro sulla quale la Lega è stata seguita da tutti gli altri partiti eppure questo rafforzamento non ha portato una maggiore responsabilizzazione di chi guida voglio dire la Polverini ha impiegato giorni prima di dimettersi perché le Formigoni non si dimette e neanche voi lo fate dimettere peraltro Formigoni se verrà condannato si dimetterà finché se basta il dubbio lei mi dica stamattina prendo un concetto nuovo se basta il dubbio per chiederle non lo faccio perfetto sto semplicemente dicendo che questa mattina l'Italia ha in vigore la riforma del centro-sinistra del 2001 che non è una riforma federale ha dato qualche potere alle regioni la Lega ci ha provato c'è stato un referendum a livello nazionale l'abbiamo perso vi ricordate nel 2006 il referendum che diminuiva di 250 il numero di parlamentari e dava poteri e soldi alle regioni l'abbiamo perso l'abbiamo vinto solo in Lombardia e in Veneto tutto il resto d'Italia ha detto no non vogliamo tagliare i parlamentari non vogliamo andare avanti sul federalismo scemi noi avremo giocato male detto questo la sfida che noi poniamo sul piatto su cui appunto attendiamo la risposta positiva o negativa ci sta di Montezemolo di Grillo di Renzi di Berlusconi di Bersani come accade in altri paesi europei come la Catalogna il federalismo fa rima con soldi che rimangono sul territorio ad oggi chi sbaglia non paga sono stati sprecati dai territori sì sì ho capito ma perché tanto poi alla fine al 31 dicembre se tu hai avuto un buco di bilancio paga lo Stato il federalismo non è così tu io do alla Polverini do al Lazio i suoi soldi il Lazio si cede tre quarti dei suoi soldi se poi li usa per fare le feste vestiti da maiali saranno i cittadini del Lazio ad irritarsi ma questo vale per il Piemonte e per chiunque altro e non è che il discorso valga a sud la proposta della Lega uscita da ieri spinta dagli imprenditori e da Squinzi e non da Salvini è i tre quarti dei quattrini rimangono sul territorio che li produce e chi li spende male è impossibilitato per legge a ricandidarsi domani mattina siamo d'accordo che ad esempio la Lombardia si tenga il 75% delle tasse da lei prodotte io sì qualcun altro no chi sbaglia paga questo ci avvicinerebbe alla Svizzera all'Austria al Belgio alla Germania ai paesi un pochino più civili comunque come Lega chiedo Venia per gli errori commessi ma guardo avanti se stiamo qua a parlare ancora di Belsito non andiamo lontani è che si parla di Belsito che però questo tutti danno atto alla Lega di aver fatto rapidamente pulizia ma si parla di Belsito perché si sono appunto sto dicendo questo che tutti i commentatori hanno dato atto alla Lega di aver fatto prima di altri partiti questo tipo c'era anche un interesse diciamo che era quello attraverso attraverso questa quella vicenda lì la Lega ha potuto realizzare anche un cambiamento al vertice dunque non è poco no non è poco è una cosa importante Sanzonetti sono due questioni che naturalmente si avvicinano ma sono diverse quelle della corruzione politica e quelle del federalismo e del federalismo fiscale diciamo perché per un motivo elementare la corruzione politica parliamo di milioni di federalismo parliamo di miliardi o di decine di miliardi quindi diciamo non è che il fenomeno della corruzione politica nelle regioni sicuramente è stato avvantaggiato dalle regole che permettevano ai consiglieri di farsi le leggi per sé i soldi questi consiglieri hanno in grado di darseli da soli e quando uno è in grado di stabilire il suo stipendio in genere lo stabilisce piuttosto alto non so perché ma pare che sia una legge quindi questo è del tutto innaturale sia stato in modo inimmaginabile l'idea ora però sulla questione del federalismo è molto più naturalmente esistono queste questioni che i fatti di questi giorni dicono ma voi siete pazzi gli diamo ancora più poteri il problema però ce ne sono molti altri ad esempio io faccio questo esempio e va bene la Lombardia si tiene sapete che vuol dire le tasse dell'Ilva di Taranto vengono pagate al nord l'inquinamento è al sud Taranto è distrutta dall'Ilva ma i proventi vengono tassati al nord perché l'Ilva di Taranto è del nord questa avviene in quasi tutte non in una piccola parte in quasi tutte le grandi imprese che operano al sud la Salerno Reggio Calabria viene costruita attraverso l'impreggilo i soldi vanno al nord voi capite che la questione è abbastanza complessa primo da questo punto di vista perché perché c'è stato la storia del rapporto fra nord e sud e dello sviluppo fra nord e sud in questi 150 anni ma anche di più è una storia dalla quale non si può prescindere se oggi noi fotografiamo io non sono per principio contrario al federalismo fiscale sono contrario al federalismo fiscale senza una riforma precedente che sia una riforma economica politica eccetera eccetera che permette un riequilibrio se oggi noi fotografiamo c'è stato recentemente è uscito uno studio dello Svimez che dice recentemente però pochi giorni fa che dice che se proseguiamo in questo modo con un lievissimo miglioramento delle condizioni del sud probabilmente è vero che nel giro di 400 anni si raggiungerà un risultato 2412 allora o noi vedi Salvini questo è un punto fondamentale che voi dite vabbè ma noi siamo un partito del nord mi faccia dire solo mi faccia dire questo è un punto fondamentale se davvero vogliamo affrontare una questione di sistema politico e quindi affrontare la questione del federalismo che poi ha ragione Salvini è una questione europea non è solo italiana eccetera eccetera dobbiamo però affrontare in modo saggio la questione del rapporto fra nord e sud che non si può risolvere solo a favore del nord né si può solo risolvere dicendo però in fondi il nord è molto più efficiente quindi può partecipare a una grande macro regione settentrionale eccetera eccetera facendo che cosa? tagliando via il sud io lo dico non solo perché vivendo peraltro a sud ho perfettamente presente le condizioni drammatiche dello sviluppo del sud ma perché sono conviviti che oggi in un equilibrio fra macro regioni anche una punizione così severa per il sud trascina via tutti e non solo perché esiste l'Europa ma perché sono le leggi dell'economia e della politica e anche le leggi sociali questa è una grande riforma del mezzogiorno una grande riforma del mezzogiorno che vuol dire però spostare enormi risorse non solo porre questioni di governo del mezzogiorno ma anche di spostamento di risorse al mezzogiorno oppure il federalismo è impensabile Salmini ma sono d'accordo con lei nessuno vuole mandare a amare nessuno però fino ad oggi da nord in questi 40 anni del dopoguerra ogni anno sono partiti circa 60 miliardi di euro all'anno verso sud ma è successo quindi ad oggi viceversa anche ad oggi la marea di soldi non è servita ma non è vero ma non lo interrompo mi scusi la marea di soldi senza la responsabilità non serve oggi le regioni che spendono di più in sanità in assoluto sono al sud Calabria Puglia Campania non è vero allora i numeri sono numeri non sono di destra o di sinistra la spesa pro capite chiunque va su Google in Calabria è molto più bassa che in Lombardia è 1.400 e non 1.700 mi contesto in questa cifra è 1.400 in Calabria e 1.700 in Lombardia non sono di più questi sono i suoi numeri no sono dei numeri aggregati però perché venivano fuori tutto quanto costava allora sto semplicemente dicendo che se la sua risposta per aiutare il sud è quella che c'è stata fino ad oggi ossia una marea di quattrine una marea di assistenza e una marea di posti di lavoro falsi e inutili non si aiuta il sud si danno degli stipendi e non si aiuta dove deve pagare le tasse in Ilva di Taranto mi risponda a questo ma lei sa quanto paga chi vive in Lombardia ogni anno e quanto torna indietro lei lo sa ogni anno chi vive in Lombardia e vota chiunque paga 108 miliardi di euro cioè la Lombardia ogni anno manda nel caso dello Stato 108 miliardi di euro di tasse ne tornano 32 ne mancano 76 all'appello ma in quelle tasse ci sono anche quelle in Ilva di Taranto voglio sapere se ci sono anche le tasse dell'Ilva di Taranto e le tasse dei lavoratori calabresi e siciliani mi scusi sto cercando di dare una risposta al problema sto dicendo fino ad oggi così come è funzionato in questi 50 anni il sud ne ha tratto vantaggio sì o no? no ma non li ha monti quei soldi che lei dice perché sono lavoratori al sud che sono arrivati al nord a lavorare riesco faticosamente a finire il discorso hai fatto una domanda però Salvini sta dicendo comunque sono arrivati tanti altri arrivano tanti altri fondi al sud questa è la sua obiezione lo chiedo ai telespettatori che ci guardano dalla Calabria e da Taranto come ha funzionato fino ad oggi con una pioggia di soldi indistinta senza responsabilità ha aiutato il sud? no perché ogni anno negli ospedali della Lombardia vengono mezzo milione di persone dal sud a farsi curare purtroppo per loro che si devono sparare mille chilometri quindi qualcosa non funziona proviamo a cambiare noi diciamo sì come penalizzando tagliando scappando in Europa e lasciando il sud al suo destino no dando a ognuno la gestione dei suoi quattrini con la responsabilità e quindi questo sì tagliando qualcosa al sud l'impiego pubblico ci sono da tagliare dei posti pubblici dipendenti a sud sì assolutamente decine e decine di migliaia di posti di lavoro inutili finti che sono solo stipendi che non aiutano il sud e non aiutano le imprese del nord quindi se fino ad oggi non ha funzionato proviamo a cambiare perché non ci siete riusciti perché non era la maggioranza perché Berlusconi ha fatto il furbo eccetera eccetera allora no vorrei chiedere invece una cosa a Mario Lavia e poi naturalmente anche agli altri però è interessante ovviamente questo scambio di vedute tra Sansonetti e Salvini però c'è un fatto il tema del decentramento per l'appunto e anche del federalismo in questo senso qui in cui lo intende la Lega non rischia di essere messo in difficoltà dalla fase in cui stiamo vivendo in cui poi è come dire è obbligatorio che sia lo Stato centrale poi a fare i conti perché siamo in una situazione di estremo rigore ma è inevitabile sì mi sembra che ci sia una tendenza opposta ma è inevitabile non ci sono i soldi qui bisogna ripetere in moto un meccanismo di accumulazione di sviluppo che non può che avere una regia centrale a me non è che sono contento di questo a me piacerebbe che ci fosse un paese con tante risorse che si potessero destinare che si potesse ma non è così in questo momento in questo momento c'è una fase di stretta che può solo avere una risposta ma anche di accentramento europea e di direzione politica centrale e così con il contributo e con tutto il federalismo o comunque le ipotesi è purtroppo sono cose che vanno bene che sono possibili in una fase alta di sviluppo a me dispiace una fase così drammatica io non vedo una risposta come quella che dice Salvini io vorrei sapere se tu anche vedi diciamo in connessione con questo tema dell'accentramento piuttosto che il decentramento che è tipico di questa fase anche se leggi così anche questo continuo delegare al governo questa delegare al governo è perché appunto le forze politiche sono distrutte il Parlamento è una cosa che non sta funzionando è evidente che tutto anche cose assolutamente impropri cioè il governo e non è che sospesa la democrazia perché il governo è fascista effettivamente la democrazia è in difficoltà e il governo si sostituisce al Parlamento e alle forze politiche questo è un dato di fatto perché se vogliamo mettere mano a queste cose delle regioni cercare di togliere un po' di poltrona le forze politiche non sono in grado di farle sembra che abbia molte difficoltà una riforma elettorale o il dimezzamento dei parlamentari non ci sono riuscite le forze politiche questa è la triste verità e c'è da dire che è inevitabile una porzione di democrazia è inevitabile è una tesa illegittima no no io dico questa è una cosa che chiedono tutti ma che non si riesce a fare a tra poco Allora rieccoci in studio con Rias sei autore appunto dicevamo con Marco Travaglio e Pezzini di un libro sulla Lega anzi su Bossi Bossi l'illusionista avete analizzato molto anche il rapporto fra Bossi e Maroni non ho avuto il tempo di leggere tutto il libro che è appena uscito ma nelle anticipazioni c'era molto questo l'analisi di questo binomio e poi ci stavi dicendo nella pagina pubblicitaria che la Lega somigliano queste posizioni un po' a quelle del passato o invece noti un'evoluzione no appunto ma adesso non è che voglio fare polemiche sul passato lo dico a Matteo Salvini ma il fatto di sentire appunto un esponente della Lega che parla in questi termini così stupefacenti della situazione di oggi dell'Italia economica e politica senza appunto la premessa del fatto che sono vent'anni che stanno al governo sentendo le cose che dice Salvini su le tasse pagate al nord i trasferimenti sono le cose sulle quali ha fondato la sua fortuna politica Bossi nel 1987 poi le ha ripetute nel 92 nel 94 nel 96 nel 2001 potrebbe essere una prova di coerenza si potrebbe essere una prova di coerenza o anche di ostinazione o anche del fatto di suscitare una considerazione che questa classe politica non è in grado di fare neppure ciò in cui crede è tutto qua per quello che riguarda io ti chiedevo del rapporto Bossi-Maroni perché abbiamo visto in particolare ieri forse è stato il giorno in cui si è vista di più la connotazione che Maroni vuole dare al partito in questa fase quindi c'era anche Bossi naturalmente insomma è stato analizzato cioè abbiamo analizzato questo rapporto tra Bossi e Maroni perché passano sono passati in questi vent'anni come due grandi amici in realtà a conoscere le cose poi forse Matteo Salvini ne sa anche più di noi è un rapporto di competizione ed è un rapporto di complementarietà non c'entra molto l'amicizia tanto è vero che alla fine il delfino di Bossi è quello che definitivamente toglie dalla scena politica Bossi lo sostituisce e in questi mesi lo stiamo vedendo Maroni sta provando a traghettare quel che resta della Lega ferita in un modo formidabile dagli scandali ferita in un modo formidabile perché la sua ragione politica la sua identità politica si fondava esattamente sulla distanza tra la Lega nascente e il potere romano morente alla fine dopo questa parabola invece si arriva a un'identità a un'identità di classe politica che si che si disperde nel e che acquisisce i modi del potere centralista anche nelle sue forme più evidenti che sono il clientelismo che sono la distribuzione interna delle risorse il fatto che appunto governino il nord e adesso vengono a dirci che non si capisce qual è la ragione per cui siamo in queste condizioni siamo in queste condizioni grazie anche al loro personale politico e al loro governo mi sembrano discorsi che meritano la replica di Salvini mi piacerebbe anche che Salvini ci raccontasse del rapporto fra Bossi e Maroni oltre a replicare sul piano politico naturalmente no replico amabilmente e tranquillamente come sto facendo su Facebook con dei vostri telespettatori nelle pause pubblicitarie la Lega non è morente da qui alla fine dell'anno inauguriamo 29 sezioni in tutto il nord con volontari che gratuitamente ci mettono tempo voglia e denaro quindi se siamo morenti auguriamoci di morire così ancora a lungo la Lega amministra le quattro regioni del nord e secondo il sole 24 ore quindi non secondo Maroni Salvini o la Padagna secondo il sole 24 ore se tutte le regioni avessero i costi di spesa di regione Lombardia lo Stato risparmierebbe 6 miliardi di euro all'anno cioè se per la spesa che costa i cittadini Lombardi la regione tutte le altre regioni italiane spendessero lo stesso lo Stato in due minuti risparmierebbe 6 miliardi di euro quindi così male gli enti locali del nord non li governiamo abbiamo fallito la riforma federale abbiamo siamo riusciti a farla no siamo stati abbastanza bravi no sono stati più furbi gli altri che si sono messi tutti insieme sì ne prendiamo atto e quindi è per questo che noi perseveriamo non è che cambiamo idea il nostro problema non è come Berlusconi cambiare inno cambiare nome cambiare simbolo cambiare programma noi abbiamo l'inno il nome il simbolo il programma e proviamo a portarlo avanti coerentemente con gli errori fatti Bossi Maroni io stamattina finisco da voi e vado al congresso della Lega di Varese laddove sono nati tanti problemi e dove si chiudono tanti problemi perché c'è un candidato unico la segreteria provinciale scelto dai militanti giovane sindaco di un piccolo comune che quindi fa politica gratis sostanzialmente e con più iscritti rispetto all'anno scorso quindi gli errori sono stati commessi sono stati riconosciuti sono stati purgati alle elezioni il professor Amadori mi correga quanti elettori della Lega non sono andati a votare le amministrative non sono andati a votare altri hanno detto io sospendo la mia fiducia nella Lega per vedere se questi cambiano e rimediano gli errori commessi ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile chiunque a casa finita la trasmissione e mangiato il bignè può andare sul sito primailnord.org per leggere tutte le proposte concrete sulla scuola sulle autostrade su internet sulle pensioni che sono uscite ieri per penitenza mi leggerò anche il libro vado a leggermi l'illusinista tanto di libri che danno dei matti a quelli della Lega ce ne sono tanti andrò a leggere anche questo andrò a leggere noi riconosciamo una grandezza di bambini ecco lo stiamo vedendo l'illusinista facciamo pubblicità l'illusinista tendenzialmente è uno che ti frega poi alla fine perché con i magheggi tira fuori il coniglio al capello e ti frega è un fuoriclasse io non penso che milioni di persone del nord si siano fatte o si faranno fregare dalla Lega ci ostiniamo a provare a fare quello che non si è riusciti a fare negli scorsi 15 anni è vero io ritengo che se uno ruba cioè se uno ruba a Roma o a Bolzano o a Caltanissetta non ruba per il modello di assetto sociale che c'è se uno è ladro è ladro in un paese federale è ladro col fascismo col comunismo col nazismo con un paese centralista tutti i dati ci dicono che in Europa i paesi federali che sono la stragrande maggioranza Svizzera Austria Belgio perfino la Francia e la Spagna si stanno avviando verso questo percorso la corruzione c'è ovunque da noi non viene se uno è ladro è ladro non è che col federalismo io elimino i ladri o col centralismo elimino i ladri io ritengo che però sia più giusto ma neanche li fai rimanere in Parlamento e sia più controllabile ma guardi i giovani padani hanno fatto una proposta in legge spero che vada avanti i voti della Lega non bastano per togliere pensione e vitalizio a chi è provato abbia rubato togliere pensione e vitalizio per chi è provato che abbia rubato vedremo vedremo se va avanti questa proposta però c'era una domanda che forse Bossi Maroni perdoni no no a parte no Bossi Maroni lo ha detto perché ha dato la risposta su Varese e ci saranno tutti e due questa mattina diceva Corrias la tesi del libro che non si sia trattato di un rapporto diciamo di amicizia ma di complementarità questa era la suggestione che viene dal libro a questo proposito ma due persone che fanno un tratto di vita non di politica ma di vita insieme per 30 anni se non fossero amici non vanno avanti per 30 anni beh negli ultimi sette lui è stato estromesso no? dal giro stretto di Bossi mi risulta Maroni Maroni c'era qualcuno e il caso Belsito ne è stata la prova c'era qualcuno che ha usato la Lega e si è infilato fra Bossi e Maroni questo qualcuno fortunatamente è a fare altro e non fa più politica e i due si sono riavvicinati c'è però il tema della Lega che è diventata una classe dirigente che in qualche modo si è romanizzata nel senso negativo che la Lega ha attribuito sempre a questa parola sicuramente in qualche caso sì cioè c'è stata questa contaminazione rispetto alle origini qualcuno si è accomodato detto questo se vuoi cambiare il paese lo cambi o andandola dove si decide o sparando sparare non è educato e non va bene se vuoi cambiare l'amministratore di condominio vai alla riunione di condominio anche se è una rottura di scatole o lo tiri sotto con la macchina tirarlo sotto con la macchina non è educato e non è carino vai in riunione di condominio e provi ad andare lì a far valere le tue ragioni fino a che non cambi quell'amministratore di condominio noi mi permettete eravamo quasi riusciti a cambiarla a novembre sarà un sospetto mio che sono maligno e guardo ai complotti ogni tanto però il federalismo fiscale di cui ieri passerà parlato dicendo oibo se ci fosse federalismo fiscale ci sarebbero meno problemi quando è caduto il governo Berlusconi era arrivato la fine dei suoi passaggi poi è arrivato il governo Monti il governo Berlusconi però resta l'avete a Roma magari noi non abbiamo ancora deciso se la Lega si presenterà o non si presenterà le elezioni onestamente io questo c'è la proposta politica nazionale ci sono i pro e i contro però se vuoi cambiare la situazione devi andare là dove decidono altrimenti vai in piazza c'era una domanda di Mario Lavig voglio capire questo appunto se la proposta politica nazionale addirittura presentarsi o non presentarsi o comunque rimanere all'opposizione mi pare che l'orizzonte del governo non ve lo posso molto probabilmente guardi ad oggi se si votasse domani mattina come diceva Madori la Lega va da sola punto e quindi andando da sola è chiaro che mette in conto di andare all'opposizione però visto che a Roma non ci siamo riusciti a cambiarla noi stiamo concentrando le nostre energie nelle regioni del nord che stiamo amministrando noi stiamo lavorando in Piemonte in Lombardia in Veneto in Friuli a Roma se ci andremo molto probabilmente ci andremo da soli e molto probabilmente andremo all'opposizione con meno parlamentari con meno senatori non muore nessuno voglio dire però Flavio Tosi proprio in questo studio aveva detto se però se Formigoni si dimettesse e quindi si andassero alle elezioni anticipate con un candidato leghista allora potremmo riconsiderare un'alleanza con il PDL sì 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 non lo so non riesco ad andare così avanti la domenica mattina sono ancora un po' ritornato mi sembrava molto sveglio però va bene volevo sentire fino adesso mi sembrava sveglio ci costa di andare all'opposizione andremo all'opposizione amen intanto Formigoni io lo sto placando come un cane da guardia su diverse no non lo sto difendendo io a Formigoni ho chiesto alcune cose come lega da portare a casa l'abolizione del ticket sui farmaci per i pensionati sotto un certo reddito il sostegno vabbè però state governando non è l'opposizione stiamo governando si può governare alla Formigoni si può governare alla leghista però ora sta governando Formigoni e voi lo appoggiate allora io volevo sentire da Amadori appunto un riferimento a questo voglio dire all'area di opposizione per l'appunto e cioè la Lega se che cosa dicono i sondaggi quanto può essere come dire è punita per gli errori come li ha definiti Salvini e quale spazio ha visto anche che c'è Grillo molto dinamico e poi ci sono altri fenomeni le primarie del PD Renzi ha una sua attrattività non c'entra con l'opposizione naturalmente però tra le figure emergenti e magari può anche prendere qualche voto al nord dalla Lega non lo so la Lega ha subito un colpo molto duro per le vicende che l'hanno coinvolta in chiave negativa è un caso clamoroso se vogliamo di demarketing come lo chiamiamo noi cioè di distruzione del valore accumulato è stato particolarmente forte l'impatto delle vicende sulla Lega perché la Lega aveva fatto una promessa una promessa forte di alterità di diversità di differenza direi anche anche culturale nel bene come nel male questa promessa di alterità per l'opinione pubblica in buona misura almeno nella fase che sta attraversando la Lega non è stata mantenuta e quindi ha subito un danno simbolico forte da cui il crollo non solo nei sondaggi ovviamente che sono voti virtuali ma nei voti reali il turno amministrativo ha dimostrato che la Lega ha faticato in molti territori in qualche territorio dove la promessa era stata di più mantenuta è andata molto meglio ma in altri territori ha subito un ridimensionamento davvero clamoroso quindi la Lega è in fase di ricostruzione ricostituzione dopo aver subito un terremoto direi proprio simbolico forse è più forte terremoto simbolico più persino di quello che ha colpito il PDL perché il PDL non ha mai fatto una promessa di alterità non faceva una promessa di alterità alla nascita faceva una promessa di sogno un diverso tipo di promessa ma non di avere un DNA differente rispetto ai mali storici consolidati al sistema politico detto questo la Lega non è finita non è finita non solo perché i sondaggi segnalano che il processo di perdita elettorale si è assestato anzi è terminato è in lieve risalita intorno al 7% ma non è finita perché il tema i temi di cui parla la Lega cioè l'identità e il rapporto con il territorio insomma sono temi fortissimi sono temi sentiti in tutta Europa e direi addirittura in tutto il mondo l'aveva previsto un futurologo John Nesbitt il quale nel lontano 85 aveva formulato il cosiddetto paradosso globale The Global Paradox lui aveva profetizzato che più fosse andata aumentando la globalizzazione più per contrasto più per contrasto sarebbero tornati i temi dell'identità e quindi anche i temi del territorio globalizzazione da una parte come azione uguale contraria dall'altra parte ritorno sulla scena della storia e quindi anche della politica del tema del territorio e dell'identità questo tema è forte non è sentito solo al nord che lo sente di più quindi essendo un tema forte trasversale ancora una volta non solo all'Italia ma ai paesi essendo un tema forte la Lega ha un suo bacino diciamo di valori e di bisogni soprattutto di bisogni delle persone su cui potrà attuare un processo di ricostruzione che sarà lento che comporterà varie difficoltà ma che dovrebbe riportarla grossomodo alla sua dimensione come dire naturale che è intorno al 10% 8-9-10% su base nazionale questo per quanto riguarda la Lega tra l'altro una curiosità c'è uno studio dell'Università di Harvard che dimostra torno alla previsione che ci vorranno 400 anni perché il centro il sud il sud si possa riallineare in qualche modo al nord non è così strano come sembra c'è uno studio dell'Università di Harvard che paragona le differenze relative non i valori assoluti ma le differenze relative di benessere di distribuzione del benessere tra i comuni dell'Italia meridionale in epoca mediovale e i comuni dell'Italia settentrionale in epoca mediovale e li paragona con le differenze relative di benessere nell'epoca attuale la scoperta degli storici di Harvard è che le differenze i valori assoluti sono cambiati enormemente ma le differenze relative nello sviluppo economico tra comuni dell'Italia del nord e comuni dell'Italia del sud mediamente sono esattamente le stesse quindi dopo 800 anni non c'è stata una differenza non c'è stata una vera crescita nella distanza relativa diciamo e quindi è possibile che ci vogliano 400 anni se non avviene un grande progetto nazionale in questo senso se non c'è la voglia di fare qualcosa di completamente differente questo per quanto riguarda la Lega per quanto riguarda Renzi la partita è molto aperta cioè i sondaggi che vengono fatti sul popolo di centro-sinistra indica che Renzi pur essendo in svantaggio nei confronti di Bersani quindi se si votasse domani se si votasse domani probabilmente vincerebbe Bersani un'elezione primaria sia sia del solo PD sia allargata alla coalizione quindi Bersani è in vantaggio però Renzi è un candidato molto dinamico in crescita in lieve ma comunque costante crescita e quindi la partita è molto aperta e io vedo con favore le primarie del PDO del centro-sinistra perché sono comunque un segno di ripresa della capacità di offerta politica perché e chiudo gli italiani sono effettivamente dalla parte del governo Monti nel senso di dargli un buon livello di fiducia diciamo che a seconda delle rilevazioni oscilla tra il 40 e il 45% qualcuno va oltre il 45% altri vanno sotto il 40% diciamo il range di oscillazione tra il 40 e il 45% che è un livello alto è un livello alto rispetto alla media delle fiducia europee quindi il governo Monti ha fiducia ma una fiducia diciamo è la stessa fiducia che si dà al medico del pronto soccorso quindi c'è come dire fiducia non c'è non c'è consenso politico nei confronti del governo Monti non c'è adesione emozionale è una fiducia data al fatto che c'è un tecnico che sta facendo del suo meglio che sta facendo del suo meglio per diciamo stabilizzare l'Italia infatti infatti quello che volevo dire prima è che se Monti o chi per lui trasformasse questa come dire questa operazione puramente tecnica in un'operazione di offerta politica gli italiani in massa potrebbero votare per questa nuova formazione quindi non stavo affatto dicendo che non c'è positività diciamo di valutazione di pagella al governo Monti c'è semmai da parte dell'elettorato il bisogno implicito che qualcuno trasformi questa operazione tipo qualcuno non necessariamente Monti in un progetto di offerta politica quello che gli italiani vorrebbero è che la politica tornasse a produrre a fare delle proposte altrimenti veramente possiamo sospenderla possiamo decidere che non serve a nulla avere un Parlamento che non serve a nulla avere dei partiti tradizionali e quelle che ci sono evidentemente sono ritenuto insufficiali detto questo la sfida che c'è fra Renzi e Bersani che è una sfida aperta assolutamente aperta in cui nessuno dei due può dire di avere vittoria in tasca è un segno comunque positivo del fatto che le forze politiche stanno ricominciando a proporre personaggi a proporre idee a proporre competizioni devo dire che su questo non c'è nessun commentatore che parli male dell'esperienza delle primarie in sé poi in questo caso di queste primarie almeno io però invece vorrei leggere il giudizio durissimo che dà Eugenio Scalfari oggi su Repubblica su Renzi che mi sembra significativo anche perché appunto per il giornale per quello che significa Repubblica per il centro-sinistra allora scrive Scalfari per quanto riguarda il suo programma di Renzi per quanto riguarda il suo programma politico per il poco che risulta dalle sue carte e dalle sue prolusioni si tratta di un'agenda generica che non c'è temi senza svolgerli una sola cosa è chiara Renzi sa parlare e richiama molto abilmente l'attenzione sotto l'oculata gestione di Gori ex dirigente di Fininvest Renzi piace perché è giovane è un requisito sufficiente politicamente molto più di centro-destra che di centro-sinistra se vincerà le primarie il PD si sfascerà ma non perché se ne andrà da Melema o Veltroni o Franceschini ma perché se ne andranno tutti quelli che fin qui hanno votato PD come partito riformista di centro-sinistra non a caso Berlusconi l'Oda Renzi pubblicamente scrive ancora Scalfari e poi dice io sono liberale di sinistra per mia formazione culturale ho votato per molti anni per il partito di Ugo Lamalfa poi ho votato il PC di Berlinguer il PDS il PDS il PD se i democratici andranno alle elezioni con Renzi candidato io non voterò perché ci sarà stata una trasformazione antropologica nel PD analoga a quella che avvenne nel partito socialista quando Craxi ne assunse la leadership senza dire che Craxi si aveva una visione politicamente una visione politica mentre Renzi non pare che abbia alcuna salvo la rottamazione francamente a meno di niente quindi sono delle parole durissime però colpisce colpisce che Repubblica e anche l'impatto mi piacerebbe colpisce innanzitutto che Scalfari rivaluti Craxi però lo mette come parametro negativo dice che aveva una visione politica colpisce soprattutto che paragoni Renzi a Berlusconi e a Craxi sì però possiamo dire la visione politica para fascista per Scalfari non è che quando fa le previsioni politiche spesso c'ha secca anzi questo è un altro discorso però era sta dicendo che Renzi non è mezzo fascista però posso dire non è vero cioè sta dicendo lui uno Renzi non è il gabibbo di Gori nel senso che non è Gori che manipola Renzi via Fone Renzi fa la parte politica e Gori gli fa la parte di comunicazione che è una cosa ovvia però leggevo l'articolo non tanto per le opinioni che possiamo avere contrarie anche perché Scalfari ovviamente è un illustrissimo commentatore però per il significato che questo può avere secondo voi questo endorsement negativo che è di Scalfari non è forse non è neanche di Repubblica secondo me non sposta molti voti dovrebbe garantire la vittoria perché chi è Renzi a Renzi se uno dà un po' un'occhiata agli endorsement negativi e positivi di Scalfari dovrebbe rimanere la quasi certezza della vittoria di Renzi non credo che sposti molti voti dice che è Bersani che si preoccupa leggendo le motivazioni però posso dire basta essere giovani per essere autorevoli è una domanda retorica no però non basta neanche essere vecchi per essere autorevoli la forza di Renzi qual è? è quella di aver capito che per cambiare rinnovare dentro il PD bisognava giocarsi una partita politica non bisognava più stare in panchina l'aspetto del paragone con Craxi che lui non cita è il Midas Craxi a fine anni 70 con il Midas svecchia di colpo il partito socialista e porta alla guida di questo importante partito con sé una generazione di quarantenni allora parliamoci chiaro ieri è venuto fuori il giallo Clinton vede Renzi non lo vede a Firenze a me ha colpito una cosa nel 99 13 anni fa Clinton andò a Firenze e incontrò D'Alema Schroeder e Blair ok? Clinton l'ulivo mondiale l'ulivo mondiale è rimasto il mondiale è sparito l'ulivo però guardiamo bene Blair fa altro Schroeder pure Clinton appoggia Obama l'unico che ancora sta su piazza politica che è D'Alema allora vogliamo negare che con tutto rispetto per Massimo D'Alema non è un però è un dato di fatto vogliamo negare che ci sia un problema generazionale nella politica italiana credo che sia mettere la testa sotto la sabbia il fatto che Renzi l'abbia portato fuori alla luce del sole secondo me fa onore al PD cioè quale partito può dare adesso una dimostrazione di forza di una gara interna per il futuro candidato premier secondo me solo il PD perché è l'unica a cui è rimasto una minima di struttura partita vorrei sentire Sanzonetti su Scalfari al di là della battuta sì al di là delle battute è uno scherzo che si riferisce al fatto che molto spesso Scalfari quando ha dato l'endorsima a Demita ha dato l'endorsima a Occheta in genere poi ma questo gli fa onore diciamo perché non è che perdere anche a Veltroni anche a Veltroni e il fatto di perdere non è che sia una per un giornalista soprattutto non è il dovere di vincere quindi è solo una battuta la questione vera che io contesto di quell'articolo è un'altra mi deve spiegare cosa c'è di sinistra in Bersani e Veltroni nel momento in cui dice che Renzi è di destra perché porta quelle proposte politiche se riesce a spiegarmi quali erano le proposte politiche diverse il modello diverso che ha portato il PD allora sono d'accordo ma a me non mi pare che fra Renzi e Bersani ci sia al di là della differenza di personaggio di come si presentano politicamente di età eccetera eccetera delle enormi differenze sulla prospettiva di futuro del paese Renzi è un riformista moderato centrista esattamente come Bersani esattamente come Veltroni su questo veramente non la capisco la questione di Scalpari lo scontro fra i due è vero come è stato detto è interessante in ogni caso perché comunque mette in moto un meccanismo politico all'interno all'interno del PD e però non mi dite che c'è questo abisso politico questo francamente non riesco a capirlo ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria fra poco Allora Mario Lavia come leggi tu abbiamo citato l'endorsement negativo le accuse di Eugenio Scalfa è particolarmente liboroso insomma non so se è anche un fatto generazionale comunque per carità Scalfari non si può la cosa dell'elemento secondo me che ha una certa che ha più forza di altri ecco da quello che hai letto tu è la cosa secondo cui se vince Renzi il PD si sfascia ecco questa è una cosa è un argomento che secondo me può avere una sua presa è un argomento che ha usato anche Massimo D'Alema in qualche modo perché è un argomento che fa breccia nella pancia nella base che vede l'unità del partito da 50 anni come un feticcio invece forse bisogna adesso non è che uno auspica la rottura del PD però bisogna anche abituarsi all'idea che qui siamo in una fase molto mobile in Italia soprattutto e bisogna abituarsi all'idea che le cose si scompongono si rifanno si ricostruiscono ci sono nuovi leader nuove aggregazioni nuovi governi non è che possiamo ragionare come negli anni 50 dove c'è il partito comunista le cose quindi questo argomento personalmente io non lo condivido lo vedo come un argomento che ha dal punto di vista propagandistico una sua forza per il resto mi sembra una valanga di improperi che dipingono appunto Renzi come un mezzo fascistello un ambizioso che non ha idee non ha programmi cosa che secondo me non è del tutto vera anzi non è per niente vera però poi questo lo giudicheranno le persone che andranno a votare alle primarie per quanto riguarda la cosa che diceva Piero Sanzonetti sulla differenza fra i due la differenza fra i due secondo me c'è c'è in termini di politica economica anche nei programmi in termini di politica economica in termini diciamo anche di visione e c'è qual è la politica economica diversa fra Monti Bersani Bersani ha una visione diciamo più sociale più legata alle esperienze di Hollande del socialismo democratico europeo più attenta ha fatto esattamente le stesse cose è una visione più tasse più spesa io non lo sto difendendo sto dicendo la sua piattaforma la sua piattaforma per le primarie è una piattaforma diciamo così ci capiamo più di sinistra e anche diciamo il disegno politico questa asse preferenziale con vendola è una cosa che invece Renzi non ha minimamente Renzi guarda un'altra parte quindi diciamo c'è una differenza non sarà una differenza abissale anche perché stanno tutti e due nello stesso partito quindi non è che possiamo aspettarci che uno sia un bombarolo e l'altro sia un sacerdote sono due posizioni diverse all'interno di uno stesso partito siccome Scalfari diceva che lui è di estrema destra a me sembra un destro uguale infatti con Scalfari è una caricatura ma infatti è una caricatura è una caricatura però più che altro lo spinge con Rias sulla su questo come dire osmosi con il berlusconismo ne fa una una specie di epigono di berlusconi sì lì Renzi paga intanto quella straordinaria ingenuità che commise qualche mese fa quando andò ad Arcore pensando di conservare il segreto insieme al Cavaliere naturalmente il Cavaliere un minuto dopo l'aveva rivelato alle agenzie poi la sua vicinanza a Giorgio Gori che è stato direttore di Canale 5 per tanti anni è davvero un uomo Fini ma è sempre stato anche è sempre stato l'uomo un po' di sinistra un po' di sinistra della Fini esattamente ma quello che Scalfari paventa come come danno cioè il fatto che il PD si rompa forse invece sarebbe una cosa salutare perché sta per rompersi il PDL almeno così dicono gli osservatori tra le due la fusione tra diciamo l'anima di AN e l'anima di Forza Italia non è avvenuta così come mi pare quella tra la Margherita e i DS non si è compiuta e lo si vede dal fatto che un giorno si un giorno stanno con Vendo al giorno dopo stanno con Casini cioè questa equidistanza che è un difetto credo adesso poi il professor Amadori ma insomma è un difetto proprio di identità di collocazione non si capisce da che parte stia l'uno e l'altro il fatto che possa vincere Renzi comunque una faccia nuova di 37 anni che amministra Firenze credo in modo buono mediocre medio come si può amministrare una città così grande così complessa non lo so penso che possa essere un vantaggio per tutti intanto si rigioca l'impressione mia è che però il sistema dei partiti appunto che è tutto preso in questi giochi che stanno mettendo le sfere i cubi le cose sono appunto fanno la figura un po' di ragazzini che si stanno trastullando mentre appunto contemporaneamente i tecnici lavorano una campagna per le primarie e le primarie non sono state indette e molti dicono che si devono fare a proposito di virtualità non si sa con che legge elettorale andremo a votare non si sa se le primarie saranno di coalizione o saranno del PD cioè non si sa niente è un totale non si sa forse l'anomalia sono di coalizione se ci sarà Vendola e c'è Tabacci invece di sicuro e Vendola però sembra che sia tramontato che sembra che Vendola sia più propenso ad abboggiare Versani almeno con un sencara che sia un notato di coalizione siamo in pieno fraiano siamo in pieno fraiano tant'è che si sono moltiplicati quelli del PD si sono moltiplicati i candidati del PD e si sono defilati quelli di coalizione dopodiché ogni mattina i tecnici escono con i cacciaviti le cose e fanno quello che devono fare in un angolo ci sono invece tutti i partiti che stanno costruendo chissà cosa Lego loro proprio perché parliamo di Lego vorrei chiedere e invece ci sono delle cose concrete di Lego vorrei passare alla Lega da Matteo Salvini perché ci sono delle cose concrete sulle quali mi piacerebbe sapere che cosa farà la Lega e in particolare visto che l'argomento più forte in questi giorni lo abbiamo già detto nella trasmissione è la questione dei costi della politica nella fattispecie delle regioni e che ci sarà un decreto del governo le anticipazioni parlano di un taglio di 600 consiglieri e poi di maggiori controlli da parte della Corte dei Conti e altre misure se la Lega voterebbe un decreto di questo genere una proposta di legge della Lega prevede non la riduzione ma il dimezzamento del numero dei parlamentari il senato federale sarebbe a costo zero perché sarebbero i rappresentanti delle regioni quindi già pagati adesso questa è una cosa che arriverà in Parlamento i risparmi e i tagli li votiamo a meno che qualcuno non cerchi di far passare il taglio della democrazia e il cancellamento degli enti locali come un risparmio quindi dimezziamo gli stipendi dimezziamo il numero dividiamo le funzioni di Camera e Senato se uno invece mi dice allora sai cosa c'è cancelliamo comuni province e regioni e allora torniamo al ventennio fascista dove ci decide uno per tutti quindi dimezziamo i parlamentari riduciamo gli stipendi Senato a costo zero togliamo pensioni a vitalizia a chi ha rubato molte regioni già hanno tolto il vitalizio quindi chi vince il mandato regionale non avrà molto probabilmente alcune no detto questo non venga Monti a dirmi e allora cancelliamo le regioni e allora no perché ripeto è una concezione di democrazia preoccupante è molto chiaro però posso dire una cosa su Renzi? no scusi scusi posso avere prima una risposta precisa se quindi il governo farà un decreto contro questi tagli che evidentemente non può contenere nemmeno l'abolizione delle regioni che non si potrebbe fare tra l'altro per decreto neanche le province potevano essere cancellate per decreto non sono infatti vediamo che non sono esattamente cancellate comunque se il decreto non conterrà la cancellazione delle regioni ma soltanto i tagli che sono anticipati oggi dai giornali la Lega voterebbe un governo del decreto del governo Monti beh sì non è che se il decreto Monti propone qualcosa intelligente la Lega vota contro visto che è all'opposizione se il governo Monti propone qualcosa che secondo noi va bene al paese al nord in particolare noi lo votiamo prima lo leggo e poi non è che votiamo no a prescindere è passato il tempo del no a prescindere su Renzi che fa il nuovo io ho le mail delle mamme e delle insegnanti degli asili nido delle scuole materne di Firenze che lui ha privatizzato quindi mi si spieghi cos'è il nuovo perché se il nuovo significa privatizzare gli asili nido privatizzare le scuole materne statalizzare l'insegnamento che è un patrimonio comunale se questo è il nuovo andiamo a vedere nel concreto che cosa significa nuovo perché io questa battaglia la faccio a Milano per non privatizzare la gestione dei nidi delle materne se viene da sinistra mi preoccupa prima il nord.org per coloro che volessero andare ad approfondire i programmi della Lega prima il nord.org per la Lega il nuovismo di Renzi non è cioè Renzi non è nuovo simpatico a me sta umanamente simpatico poi però voglio leggere il programma non mi basta io ho 39 anni però non è che siccome ho 39 anni sono meglio di uno che ne ha 60 perché magari sono un 39enne imbecille giustamente uno a casa vuole vedere che cosa propongo Renzi dica io propongo qualora fossi premier di privatizzare tutto l'insegnamento e poi uno si fa i suoi conti c'è il sito c'è il sito c'è il sito c'è il sito allora tutti a leggere i siti tutti a leggere i siti della Lega di Matteo Salvini di Renzi allora Amadori questo articolo di Scalfari a cui abbiamo dato un certo rilievo dice qualcosa di vero anche in termini cioè tira fuori un argomento che secondo lei può avere un peso anche demoscopico questa questione antropologica che solleva Scalfari di diffidenza l'articolo in sé no perché purtroppo gli italiani leggono poco i giornali no certo no no dico l'argomento 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 potrebbe come è stato detto giustamente in studio a Roma l'argomento potrebbe potrebbe essere oggetto di una campagna di controcomunicazione non so come chiamarla potrebbe diventare parte di una battaglia come dire anche dura finalizzata non tanto a esplicitare una legittima competizione all'interno del partito fra posizioni diverse quanto a mantenere tutto sommato anche da potista culturale ideologico il PD statico anziché trasformarlo definitivamente in un partito dinamico come dovrebbe essere per qualsiasi partito partito utile quindi l'argomento non è banale non è banale perché diciamo tutta la seconda repubblica è vissuta sull'antinomia sulla contrapposizione forte tra berlusconiani di una parte e anti-berlusconiani dell'altra e diciamo molti elettori del PD hanno effettivamente interiorizzato una sorta di DNA anti-berlusconiano è uno dei limiti se vogliamo anche del PD dal punto di vista culturale il fatto di andare a dire che l'unico avversario interno che ha avuto la forza comunque di avviare un progetto interno appunto il fatto di dire che l'unico avversario interno è in fondo e ma anziché non è il nemico potrebbe rappresentare un argomento ripeto non proprio risibile l'antidoto è quello che si diceva anche qui a Milano cioè esplicitare i contenuti dichiarare più chiaramente che cosa si vuole fare come affrontare i problemi del paese spiegare ai cittadini agli elettori in questo caso di centrosinistra quali sono le posizioni concrete in gioco un po' di concretezza di pragmatismo di collegamento con la realtà aiuterebbe a fugare qualsiasi tipo di ideologizzazione e farebbe delle primarie all'interno del PD ripeto un esempio di tentativo di ridare alla politica il suo il suo scopo che deve essere quello di proporre visioni proporre persone proporre programmi per governare il paese l'ultima cosa che volevo dire riguarda sempre a proposito di Renzi versus Presani e dell'articolo adesso capisco meglio anche la posizione che è stata espressa a Roma è vero non è il massimo della democrazia o meglio di un processo democratico ideale però in questo momento non ci sono alternative ecco il fatto stesso che l'establishment non politico ma l'establishment culturale italiano blocchi sul nascere in fondo cerchi di bloccare sul nascere una competizione che invece è comunque una competizione politica poi può piacere o non piacere Renzi ma comunque una competizione il fatto è che un giornale invece di come dire applaudire al fatto che c'è una ripresa di progettazione politica di competizione politica il fatto è che un giornale importante dica no questa competizione è rischiosa perché addirittura potrebbe portare al disastro un intero partito è la dimostrazione che forse la posizione espressa a Roma è veramente molto realistica non è idealistica ma è realistica cioè il paese non vuole cambiare non vuole ridare alla politica la sua missione correndo anche i rischi che questo comporta preferisce come dire mantenere tutto bloccato dal punto di vista di innovazione politica e quindi necessariamente l'unica soluzione è affidarsi a un governo tecnico quindi la politica è veramente nell'angolo e l'articolo di Scalferi un personaggio che rispetto e stimo però in fondo è un grandissimo segno di conservatorismo cioè proprio un ammazzare sul nascere la ripresa della progettazione politica e sotto questo periodo sono sorpreso onestamente Mario Lavia no io sono un secondo nel senso sì l'argomento è l'unità del partito sono d'accordo l'ho detto anche io è un argomento che ha una sua forza propagandistica per una certa fascia di età perché io non so a uno di vent'anni che gliene frega dell'unità del partito e quindi questo vuol dire se va a votare molta gente molti giovani il risultato è ancora più aperto di quello che si può pensare però tu sei il vice direttore di Europa e c'è un tema che appunto sembra un tecnicismo eppure è la questione politica dal punto di vista delle primarie cioè le regole delle primarie e su questo si sta consumando e anche lì si sta vedendo una reazione molto difensiva da parte dell'ala di Bersani sulle regole delle primarie appunto perché ogni tentativo se vi fosse un tentativo di fare le regole che diciamo limitassero la partecipazione e beh questo sarebbe un fatto negativo le primarie sono un po' un casino e questo secondo me la forza la bellezza delle primarie sta lì perché non si può limitare in alcun modo insomma fatte salve delle regole assolutamente di civiltà però poi va a votare chi vuole anzi si deve incentivare la partecipazione la più larga possibile spero che non ci siano tentazioni diciamo autoritarie da questo punto di vista e il fatto di concedere il voto anche ai sedicenni oggi obietta Galli della loggia voto a chi ha sedici anni che però poi non può votare per le politiche si è fatto per proti non è successo nulla se non va bene per proti andrà bene anche adesso per Bersani ecco non si potrebbero prendere proprio le regole così come sono quello che pensa che Renzi esattamente quello che si è le regole di prima uno va a votare firma il nome da un euro non vedo si sta complicando sta cosa e si sta creando un clima di agitazione che già questo scoraggia c'è una novità rispetto alle primarie precedenti semplicissima queste sono primarie vere le primarie precedenti furono avvincitori assicurati ma a maggior ragione le regole devono essere trasparenti erano delle incoronazioni e poi un modo per pesare gli altri e quindi creare delle corrette anche una mobilitazione politica un modo di anche importante però non era davvero la scelta del candidato certo in questo caso è la scelta di due linee su due linee ho dubbi su due volti si però il fatto che le linee sono due ripeto non dovrebbero tre volti tre se c'è anche l'Endola quattro se c'è comunque la corsa con la corsa con la Bersani e Renzi che mostrano ogni giorno i partiti che non sono neanche in grado di governare le regole che dovrebbero sovrintendere la loro vita interna figuriamoci il governo del paese cioè di noi è abbastanza allarmante ecco io provo un momento con Mario Lavia sulla questione di Monti la dichiarazione con la quale Monti fa capire che è in campo anche se non come candidato quanto turba lo svolgimento delle primarie non rischia di far perdere un po' di senso alle primarie se poi alla fine l'approdo è un po' sì cioè se poi è certo è probabile che con questa cosa è possibile che con questa cosa di Monti con Monti in campo andiamo tutti alle primarie a votare uno che non sarà il premio cioè questa è un elemento di debolezza ma questa è la condizione in cui ci si trova però lo sapevamo anche prima della dichiarazione di Monti non è che non lo sospettassi però adesso è proprio una cosa di emergenza forse adesso è proprio un'ipotesi politica si sceglie il capo del PD non si sceglie il capo infatti si dice che Renzi il giorno in cui Monti ha dichiarato di essere disponibile come risorsa da New York fosse abbastanza dirato attenzione però perché se si fa una gara vera nel PD alle primarie vince Renzi o Bersani e questi si candidano poi dopo a seconda del risultato elettorale qui c'è l'incognita della riforma elettorale perché se fanno una riforma elettorale per pareggiare è ovvio che poi il percorso fanno una riforma proporzionale è evidentemente senza premi di maggioranza o con premi di maggioranza ridotti è chiaramente un instradamento verso Monti però i processi democratici come le primarie soprattutto mi riferisco al popolo di centro-sinistra una volta innescati dopo è difficile tornare indietro cioè è difficile presentare un proprio premier vincere le elezioni anche col proporzionale e poi riaccordarsi con chi per questo è interessante la cosa di Montezemolo sul con chi perché il PDL secondo me non esiste più è un partito allo sfascio è un dato di fatto Montezemolo dice diamo una casa ai moderati visto che Monti non vuol fare una sua lista una sua agenda non si vuol candidare per poi giocare dopo la partita però secondo me non è così scontato il Montibis beh perché qualcuno potrebbe anche vincere le elezioni qualcuno potrebbe anche vincere ma poi l'estemporaneità della nostra politica ci può riservare delle sorprese insomma da questo punto di vista era interessante lo chiedo un po' a tutti ma a cominciare da Sansonetti quello che diceva Madori su un grande spazio addirittura quantificato all'inizio della trasmissione mi sembra che abbia detto 20 milioni di voti 21 21 milioni di voti per una forza politica nuova o per qualcosa di nuovo quindi c'è uno spazio che di solito la regola è che in politica gli spazi non restano vuoti vengono occupati quindi io ho l'impressione addirittura che lo spazio sia ancora più grande cioè seguendo un po' intanto Amadori ha ragione secondo me Amadori Amadori ha ragione perché Amadori ha dato ragione a Sansonetti all'inizio e questa cosa ha creato una saldatura nel dibattito comunque ha ragione l'impressione che io è questa l'abbiamo già detto siamo comunque alla fine della seconda repubblica la fine di un'esperienza così comporta non può non comportare un rimoscolamento dei partiti l'ha portato clamorosamente dopo la prima repubblica che pure era una repubblica strutturata su dei partiti fortissimi abbiamo vissuto invece una seconda repubblica che era strutturata su partiti debolissimi e soprattutto sulla leadership di Berlusconi e poi dell'anti-berlusconismo il meccanismo politico fondamentale della seconda repubblica è stato un grande leader che alle volte era al governo alle volte all'opposizione e chi si opponeva a Berlusconi non c'era nessun'altra Berlusconi è crollato clamorosamente l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione eccetera eccetera e quindi cosa resta? resta pochissimo perché i partiti precedenti non c'erano ideologie non c'erano la prima repubblica aveva le ideologie grandi linee politiche non c'erano grandi differenze politiche allora a questo punto il problema che si pone è quello di ristrutturare la politica italiana non rinasce la politica italiana se non ritrova dei contenitori delle strutture probabilmente dei partiti nuovi questo dico anche più di 42 milioni e per questo dico che quello che diceva prima la via non è sbagliato una vittoria di Renzi da questo punto di vista aiuterebbe perché comunque farebbe esplodere anche il centro-sinistra e dopo si tratterebbe di rimettersi a lavorare per trovare nuovi leader nuovi volti anche appunto per evitare che alla prossima riunione di Firenze nel 2064 ci siano ancora D'Alema e i nipotini i pronipotini di Clinton e di Joe Spann e bisognerà ristrutturare i partiti i movimenti quello che vi pare però qualcosa dovrà ridare sostanza alla politica italiana e non possono essere gli schieramenti di prima perché gli schieramenti di prima raccontatemi quello che vi pare ma si basavano su Berlusconi gli schieramenti erano tutti intorno a Berlusconi non c'è più bisogna rifare gli schieramenti e per rifarli invece qui la questione deve tornare la politica quindi devono tornare le linee politiche Monti non è questo c'è Monti e poi c'è però io vorrei chiedere a Sanzonetti soltanto di vendola perché Sanzonetti è un uomo di sinistra e la figura di vendola alle primarie tutto sommato oltre al fatto si garantisce che si tratti di primarie di coalizione però siamo sicuri che si candiderà no appunto abbiamo detto che siamo sicuri di no però se si dovesse candidare quale sarebbe il senso poi alla fine perché se già si è sicuri che si sceglie un candidato premier naturalmente non è lui queste primarie sono un chiarimento un rimescolamento che ci fa a vendola che ci fa proprio per questa ragione proprio perché non si tratterà alla fine di scegliere il premere ma di scegliere i rapporti di forza all'interno diciamo così del partito democratico della coalizione centrosinistra vendola è autorizzata ad andare lì a rappresentare la sinistra la sinistra del centrosinistra e a contare e a vedere poi quanto potrà contare successivamente negli equilibri hanno cambiato un po' senso le primarie quando vendola si candidò alle primarie due anni fa si candidò per la premiership e con larghe possibilità di vincerle larghe comunque ragionevoli possibilità di vincere le primarie oggi francamente è cambiato è cambiato un po' tutto le primarie sono un'altra cosa vendola può candidarsi e no se si candida si candida per consolidare diciamo così una sinistra del partito più generalmente però secondo me è cambiato perché è arrivata una candidatura più forte di quella di vendola che è quella di Rezzi allora vendola sceglie il male minore manda i suoi di sinistra a votare Bersani perché è chiaro che se vince Renzi cambia tutto cambia anche il rapporto tra il PD e la sinistra già come se fosse un doppio sicuramente si ridisegna perché diciamo l'ultimo presidio partitico rimasto è il PD può piacere o no però l'unico partito che ha un minimo di struttura sicuramente indebolita dopo la fusione di S. Margherita ma che però ce l'ha sul territorio nei quadri la vittoria di Renzi può essere un vantaggio per tutti anche per la sinistra sarebbe un vantaggio però questa è un'opinione personale io vorrei chiedere a Matteo Salvini qui sono stati dati i giudizi condivisi sulla fase di sgretolamento del PDL allora come alleato ex alleato di quel partito che impressione che impressione ha a lei che effettivamente il PDL sia così viene detto qui non soltanto nel dibattito di oggi il PDL non esiste più non c'è sgretolato secondo lei è così? è vero che a livello territoriale visto da nord hanno 6.000 problemi e non c'è una direzione unica non si parla male di un assente però il sindaco di Mantova fa di testa sua e rischia di andarsene a casa problemi ci sono nel Varesotto nel Lecchese nel Bergamasco ma nella stessa regione Lombardia non c'è un partito ci sono 2, 3, 4, 5 movimenti nel movimento ciascun contro l'altro è per questo che alle ultime elezioni amministrative la Lega ha preferito andare da sola ovunque senza il PDL che vuol dire che perdi per strada qualche poltrona qualche sindaco qualche assessore ma ti fortifichi come identità e come struttura io faccio gli auguri molti molti elettori del PDL li capisco in questo momento non hanno ancora capito Berlusconi c'è Berlusconi non c'è io personalmente mi auguro che non ci sia Berlusconi in prima linea che ha già dato e quindi che anche all'interno del PDL ci sia un processo di rinnovamento altrimenti le porte della Lega sono aperte Amadori proprio una cosa di un minuto meno di un minuto 30 secondi sulla possibilità che Berlusconi sia di nuovo candidato alle elezioni in termini di sondaggi il candidato premier dell'intero centro-destra è molto improbabile o diciamo impossibile invece Berlusconi mantiene un suo consenso di nicchia potrebbe essere lanciato una sorta di lista Berlusconi molto ridimensionata rispetto ai numeri di Forza Italia ma mantiene comunque un consenso personale è un fenomeno italiano simile a fenomeni che sono accaduti in Spagna con Franco in Francia con De Gaulle e in Argentina con Perón esiste un elettorato diciamolo pure francamente populista che riconosce ancora oggi in Berlusconi un rappresentante del tutto sintonico con le proprisioni e che non è insidiato le chiedo telegraficamente che non è insidiato da Grillo in questo no no assolutamente in questo ruolo naturalmente non in termini elettorali quindi non più un premier candidato del centro-destra ma potrebbe avere una sua lista e giocare ancora un ruolo nella politica italiana benissimo ci fermiamo qui Omnibus torna domani dopo di noi il meteo condotto da Mario Giuliacci a domani Buongiorno ebbene ancora situazione mutata sul meridione dove da molti giorni il cielo è sereno e fa caldo e anche oggi il cielo sarà sereno e farà ancora caldo per la presenza dell'anticiclone nordafricano nuvole rovesce temporali invece sul centro-nord dell'Italia per la presenza della perturbazione numero 6 di settembre giunta ieri sul nord Italia che oggi si è estesa anche alle regioni centrali fino a toccare marginalmente anche la Sardegna e la Campania rovesce temporale che saranno di forte intensità nel pomeriggio nelle zone interne del centro e nella sera sul Veneto comunque la maggior parte dei rovesci temporali dovrebbero svilupparsi soprattutto nel pomeriggio e nella sera domani situazione ancora diciamo con nuvole rovesce temporali su gran parte del nord in particolare Lombardia Venezia zone interne del centro migliora un pochino sulle regioni di nord-ovest ancora caldo al sud ma caldo in attenuazione perché l'anticicolone delle Azzaro incomincia a smobilitare dalle regioni meridionali arriviamo a martedì martedì ancora un po' di nuvole su gran parte del centro-nord qualche pioggia qua e là soprattutto Venezia Giulia Friule zone interne del centro ma il tempo ormai è in miglioramento temperature in calo sul meridione e infine da mercoledì e fino a domenica prossima bel tempo e temperature nella norma su tutta l'Italia ma vediamo l'immagine del satellite delle ore 6 di questa mattina vedete le nuvole che ricoprono molte aree del centro-nord dell'Italia ma altre nuvole che arrivano dalla Spagna e dal Tirreno pronte a invadere tutto il centro-nord dell'Italia il motivo per cui dicevo che i rovesci temporali saranno più probabili nel pomeriggio e nella sera vediamo l'immagine successiva che riporta il campo della pressione vedete l'anticiclone nord-africano che si sta già defilando verso est la perturbazione numero 6 che occupa tutto il centro-nord dell'Italia le temperature osservate questa mattina alle ore 6 quasi nella norma sul centro-nord dell'Italia qualche valore basso sul Piemonte invece valori ancora elevati relativamente elevati sul meridione vediamo anche un 25 gradi a Palermo bene allora il tempo che farà oggi l'abbiamo detto bello sul meridione molte nuove sul resto dell'Italia rovesce temporale su tutto il centro-nord dell'Italia rovesce temporale anche sulla Sardegna dicevo di forte intensità nel pomeriggio sull'Umbria aree limitrofe e nella sera di forte intensità sul vento vediamo le temperature massime previste per oggi tra 20 e 24 sul nord Italia fa un po' fresco al nord temperatura ancora superiore 30 gradi su gran parte del sud e con qualche punta di 33 34 gradi sulla Sicilia i venti previsti per oggi i venti deboli per lo più di direzione variabile bene andiamo a vedere il tempo che farà nella giornata domani lunedì vedete qualche schiarita in più ancora delle piogge sulle Alpi centro-orientali sulle Venezie sulla Lombardia qualche pioggia su gran parte del centro ma sono ormai piogge deboli sparse rispetto alla giornata odierna le temperature massime previste per martedì indieve rialzo sul nord Italia e in calo invece sul meridione ma ancora fa un po' caldo al sud infine vediamo il tempo di martedì vediamo molte più schiarite qualche residuo piovasco sul Friole Venezia Giulia qualche piovasco ancora sulle Vanti Ligure le zone interne del centro per il resto direi solo un po' di nuore le temperature previste per martedì bene diciamo rialzo al centro nord in calo al sud e al sud quasi si stanno portando nella norma bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno adesso buon proseguimento con la normale programmazione della sette che c'è che c'è